Mentre il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, presenta il nuovo soggetto associativo a perimetro regionale di Confindustria, cioè Un'Industria Calabria, l'Unione degli industriali e delle imprese di tutte e cinque le province della regione, a Vipo Valenza il presidente dell'associazione territoriale Antonio Gentile, radunando in assemblea i suoi associati, fa il punto della situazione. Qual è la situazione degli associati di Confindustria nel Viponese? La situazione effettivamente è un po' critica, critica perché abbiamo un territorio che è critico, noi non facciamo altro che rispecchiamo un po' quella che è la situazione, la conosciamo tutti, ormai abbiamo un territorio che è dal 2006 dopo l'alluvione che è bloccato e i nostri politici non hanno avuto la capacità di creare quell'indotto per sbloccare questa situazione, si è andata poi moltiplicando con una crisi mondiale economica, una crisi che poi con queste patte di stabilità, con queste problematiche di spese, sostanzialmente sta creando e anche un'incapacità del politico di programmare, perché non abbiamo nemmeno la capacità di organizzarci e di essere capaci a programmare il nostro futuro. Oggi con il nuovo Presidente della provincia dobbiamo spingere, e credo che ha queste capacità anche il nuovo Presidente, di organizzare e di programmare il territorio, perché solo attraverso la programmazione possiamo riuscire ad emergere ed uscire da questa situazione di stallo che abbiamo. Le grandi industrie e le industrie storiche di questa provincia stanno chiudendo quasi tutte, che nuovo corso si potrebbe dare all'imprenditoria del Vibonese? Non è che stanno chiudendo, hanno già chiuso le grandi industrie, sostanzialmente noi dobbiamo avere quella capacità di riorganizzare il territorio con uno sviluppo del prodotto interno lordo nostro, e quindi abbiamo la capacità del turismo e dobbiamo avere la capacità di organizzarci, abbiamo la capacità dell'ambiente e dobbiamo organizzarci per dare sviluppo, dobbiamo ripartire per forza con un'edilizia intelligente, ciò significa ristrutturare, creare una bioedilizia, un'edilizia a risparmio energetico. I nostri amministratori devono spingere su questo punto, anche perché c'è la possibilità di avere dei vantaggi anche fiscali, e quindi ripartire soprattutto dalle manutenzioni per avere un territorio vivibile, perché solo avendo un territorio vivibile possiamo vivere su questo territorio e quindi ripartire quella macchina economica che è necessaria per poter avere una vita sociale normale.